Conclusi da pochissimo i lavori di riqualificazione, è aperto da stamani il Parco Giochi di Piazzale San Donato, completamente rinnovato ed accessibile a tutti i bambini. Il progetto è nato dalla collaborazione del Comune di Lucca con le associazioni Anmil-Lucca, Fand, Il Cuore si Scioglie Onlus e Cop Firenze, che hanno promosso una raccolta fondi per l'acquisto di giochi inclusivi. A queste risorse l'amministrazione Tambellini ha aggiunto 50.000 euro, che sono serviti a ristrutturare l'intera area dedicata allo svago dei più piccoli. L'intervento sul progetto dell'architetto Daniele Gemignani, iniziato in estate, ha rinnovato completamente l'intera area nella zona ovest del centro storico. Il parco è suddiviso in cinque aree gioco, tutte pavimentate con un fondo in gomma antitrauma e collegate fra loro da percorsi interni al parco. Quattro aree sono state attrezzate recuperando i vecchi giochi ancora funzionanti e con nuovi giochi che potranno essere utilizzati anche dai bambini disabili. Un castello scivolo componibile, un seggiolino per l'altalena e due giochi a molle. Nella quinta area è stato collocato un teatrino, che servirà ai bambini per sperimentare e organizzare feste, eventi, spettacoli di giocolerie e burattini. La piattaforma del teatrino, lunga circa tre metri e mezzo, rialzata da terra, è dotata, oltre che di scalini, anche di una rampa di accesso per disabili. Inauguriamo un parco che è completamente rinnovato nella pavimentazione e nei giochi per essere accessibile a tutti i bambini. Siamo molto felici di questo aspetto e siamo felici anche del modo in cui siamo arrivati a realizzarlo. In particolare vorrei ricordare l'assessora Lucia Del Chiaro che ha profuso il suo impegno in questo senso e il confronto e il supporto che ci è arrivato dal tavolo della disabilità con cui abbiamo condiviso questa strada.